Ecco a voi la classe che ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati da questo progetto, la classe? La terza F. Siamo molto contenti e soddisfatti di aver ottenuto questo premio, è stato un lavoro molto interessante e stimolante e quindi speriamo di poter proseguire anche in futuro, visto che abbiamo la disponibilità della piattaforma ancora per un po' di tempo. Ringraziamo l'associazione per l'opportunità che ci ha offerto. E voi ragazzi cosa avete da dire? Noi siamo molto felici perché ci abbiamo dedicato tante attenzioni, tante cure, ognuno di noi ha fatto la sua parte e ha provato a fare il suo meglio, ha dato il suo meglio e quindi siamo molto felici di aver raggiunto tutti gli obiettivi. Quindi vi siete divertiti nel processo, il risultato, i premi non è importante, vi siete proprio divertiti nel processo, è quella la cosa importante? È stato bello perché anche le persone che avevano più difficoltà sono riusciti ad emergere, abbiamo cercato di interagire con le piattaforme informatiche e attraverso la collaborazione di tutti. Volete dire qualcosa? Avete inserito anche lingue straniere e coinvolto anche ragazzi, quindi queste lezioni sono fatte anche per stranieri, vero? Sì, anche persone di altri paesi o piuttosto che altre persone che vogliono imparare con altre lingue abbiamo deciso di mettere delle piattaforme in inglese o piuttosto che altre lingue. Quindi qui di serve anche per l'integrazione. Grazie a tutti.